Benvenuti a tutti e vediamo in questo video come farsi desiderare da un uomo e ottenere la sua totale attenzione che è sempre un parametro molto importante, quella di la capacità di ottenere l'attenzione di un uomo, la capacità di farsi desiderare e vediamo quindi come farsi desiderare da un uomo e ottenere la sua totale attenzione prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonarsi è facile, basta andare nella home page il tastino è il tastino abbonati che si trova vicino al tastino iscriviti e quindi puoi diciamo salutiamo Pepe Rosa Cucina Naturale, salutiamo la nostra Rosi, salutiamo Sissi iscrivetevi al canale Pepe Rosa Cucina Naturale, come mangiare senza ingrassare e veniamo, veniamo quindi al tema, veniamo al tema e cerchiamo di capire quindi come farsi desiderare da un uomo e ottenere la sua totale attenzione, ottenere la totale attenzione, la tua totale attenzione da parte di un uomo come fare? Innamorare un uomo di te allora, intanto devi capire se questa persona è la persona giusta, vecchia malgasciona che non sei altro perché altrimenti dedica energia alla persona sbagliata e quante di voi, vecchie befane, vecchie carampane, dedicano le energie alla persona sbagliata è pieno il mondo, è pieno il mondo devi capire almeno se ha un tocco sentimentale nei tuoi confronti se ha diciamo una, grazie Rosi, se ha un qualcosa di sentimentale nei tuoi confronti oppure no, perché se è completamente arido, se è sentimentalmente arido se non ti dà niente da un punto di vista sentimentale effettivo ma viva Dio, come diceva qualcuno come puoi amare o cercare di conquistare una persona di questo genere tieni presente che poi un uomo, quando è innamorato di te, avrà sempre un punto debole e quindi tu devi imparare a farli innamorare per sfruttare poi quel punto debole quindi è importante saper cogliere i segnali del coinvolgimento di quanto è coinvolto di sé, è coinvolto e del livello di coinvolgimento salutiamo la carampa gnocca Patrizia Perotti perché altrimenti, beh, diciamo che le possibilità di coinvolgimento diventano veramente basse le capacità di coinvolgimento è difficilmente, diciamo quando un uomo sente la tua mancanza, ad esempio ti cerca potrebbe non ammetterlo, potrebbe non ammettere che sente la tua mancanza ma fondamentalmente ti cerca quando un uomo cerca di rimanere in contatto con te non lascia passare troppo tempo perché se sente la mancanza percepisce comunque di essere coinvolto percepisce comunque di essere innamorato di te quindi questo è un punto fondamentale e tu lo puoi cogliere, ad esempio, quando interagisci anche dal linguaggio non verbale fondamentalmente, no? perché, ad esempio, guardando negli occhi un uomo si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima tu puoi capire se questa persona è coinvolta con te e naturalmente, come dire, è importante innescare l'inizio perché, ecco, questo è un concetto che vorrei vi penetrasse totalmente perché se tu non riesci a creare un innesco come dire, non è che puoi moltiplicare il pane con i pesci come faceva Gesù cioè un po' di coinvolgimento devi crearlo inizialmente quindi partendo da un coinvolgimento anche piccolo tu puoi farlo crescere puoi farlo diventare grosso e ovviamente, come dire, non come quello di Pippoli che resta sempre piccolo ma altrimenti, che poi tra l'altro l'abbiamo legato lì, la nostra Patrizia, la nostra Sissi con il suo bondage, chissà dove l'ha legato quindi, partendo da un coinvolgimento piccolo tu puoi farlo diventare grosso e come fai a farlo diventare grosso? amplificando, amplificando quelle che sono diciamo, amplificando quelle che sono le, amplificando quelle che sono le sue come dire, amplificando, rigenerando quelli che sono i suoi turbamenti ovviamente, altrimenti non otterrai nessun risultato altrimenti non otterrai nessun risultato perché ci sono, ad esempio, molte situazioni in cui magari molti uomini non sono spinti a impegnarsi non ti fanno diventare la sua priorità per il fatto che tu rendi loro la tua priorità e quindi è come se è come se ci fosse un serbatoio di energia che è legato davanti alla tua referfarlocca è come se tu, diciamo, gli dessi energia e quindi lui non ha bisogno di mettere energia è come il serbatoio di benzina se l'energia la metti tu lui non deve mettere non ti renderà la sua priorità anzi, per come sono fatti gli uomini nel momento in cui tu lo fai diciamo, sua assoluta priorità lui farà un'altra sua priorità perché farà quell'altra perché non lo renderà totalmente disponibile insomma, questo devi imparare a gestirlo ovviamente poi quando la relazione è partita quando la relazione funziona magari non è più necessario farlo in questo modo magari non serve più magari puoi agire in un'altra maniera quando una relazione poi è consolidata quando una relazione poi funziona quando ci sono tutti i presupposti allora, però ci deve essere sempre un po' uno scambio un doubt dance ci deve essere sempre un dare avere ci deve essere sempre un qualcosa che in qualche modo si manifesta nel modo giusto questo credo che sia un parametro importante un parametro importante perché altrimenti veramente le situazioni diventano poi come dire, non più gestibili e se non diventano più gestibili quindi vuol dire che tu hai difficoltà a gestirle e invece devi imparare a gestirle sempre nel modo ottimale quindi devi capire gli uomini gli uomini si innamorano si innamorano tanto quanto si innamorano le donne gli uomini possono anche innamorarsi al punto tale allora, come fare a produrre questo primo fardello diciamo, di coinvolgimento? beh, guarda, te lo dico semplicemente attraverso la tua femminilità attraverso la tua femminilità attraverso la tua dolcezza attraverso il tuo saperle intrigare vai a creare quel primo grado di attrazione questo non c'è altro sistema perché quello è il primo tassello che devi mettere dentro è il primo tassello che viene messo dentro attraverso la tua femminilità quindi cerca di essere femminile nell'abbigliamento nella camminata nel modo di fare nel comportamento nel paraverbale nel verbale nel non verbale la tua femminilità deve manifestarsi e quello è il primo punto diciamo una volta che perché ovviamente poi certo ci saranno anche uomini che si innamorano delle donne mascoline per carità io non voglio mettere in dubbio c'è un po' di tutto ci saranno anche uomini che si innamorano di donne come dire virago ma la femminilità è la cosa fondamentale ora se tu dici qualche tipo di abbigliamento ora femminile non vuol dire troione è diverso lo dico sempre la femminilità deve essere la femminilità che cos'è poi sostanzialmente è tutto ciò che si differenzia dalla mascolinità quindi l'abbigliamento pensa come è vestito un uomo e tu devi vestirti al contrario pensa come cammina un uomo e tu devi camminare al contrario pensa come parla un uomo e tu devi parlare al contrario pensa a come agisce un uomo e tu devi agire al contrario quindi questo è il punto fondamentale è ovvio che se una donna si veste con i pantaloni con diciamo le tute mimetiche con gli scharponi e beh quello è esattamente il contrario della femminilità quindi quando un uomo ti trova attraente ovviamente oggi ci sono molti incontri nei social non devi neanche salutiamo anche Patrizia ci sono anche molti incontri nei social oggi non devi neanche diciamo ciulare nel manico come si dice in gergo cioè non è che perché incontri nei social ti metti delle foto che sembri che in realtà quando ti vedi dici ma forse quella di prima era la figlia o questa qua è la nonna perché ci sono delle donne che nei social salutiamo anche Katia ci sono delle donne che nei social mettono delle foto che non sembrano neanche loro diciamo o comunque magari erano loro vent'anni prima trent'anni prima questo non va bene tieni presente che non va bene perché se no si creano delle aspettative si creano delle aspettative che poi vengono deluse al primo incontro purtroppo non è che puoi mantenere una relazione soltanto su un piano come possiamo dire non è che puoi mantenere una relazione soltanto su un piano virtuale anche perché poi se resta solo sul piano virtuale in realtà se non c'è mai un incontro in realtà poi diventa qualcosa di molto sterile no? e allora diciamo mettere delle foto in cui praticamente non dico che non sei tu ma sei magari photoshopata non porta non ti porterà a nessun vantaggio non ti porterà a nessun vantaggio è meglio da quel punto di vista lì essere realistici è meglio essere realistici perché se tu ovviamente devi essere la migliore versione di te stessa questo è un punto fondamentale sia nel online che nell'offline questo credo che sia anche un punto molto importante essere sempre la migliore versione di te stessa porta comunque ti porta dei grandi vantaggi perché perché ti sprona diciamo a migliorarti io credo che l'interagire con un uomo per una donna come anche per un uomo deve essere poi fondamentalmente anche il piacere il piacere di piacere a se stessi fondamentalmente no? anche il piacere di essere interessante quindi ti dà lo stimolo a migliorarti non è una cosa da poco avere uno stimolo a migliorarsi perché se tu hai uno stimolo a migliorarti puoi veramente fare un salto quantico dal punto di vista della seduzione puoi veramente fare un salto quantico dal punto di vista del coinvolgimento e credo che sia molto importante una volta che ti manifesti come femminile quindi con un abbigliamento piacevole femminile insomma la gonna le calze i tacchi insomma un po' di cose che possono intrigare un uomo ma sempre rimanendo nel moderato diciamo nel non essere troiona una volta che tu una volta che tu hai fatto questo devi amplificare no? devi far crescere devi far crescere questo questo potenziale e come farlo come far a farlo crescere? beh la cosa migliore è rigenerando i suoi turbamenti andando a rigenerare i suoi turbamenti qui viene d'aiuto veramente la comunicazione non verbale perché attraverso la comunicazione non verbale quella che si chiama indagine verbale dei punti distonici che io spiego nel mio seminario sul canale youtube Massimo Terramasco ma anche su questo canale se fai l'abbonamento potrai tenere dei grandi vantaggi quindi quando che cos'è diciamo questa strategia beh è semplicemente la capacità è semplicemente la capacità di diciamo attraverso un'analisi e diciamo tu devi iniziare a toccare diversi punti no? che iniziare a parlare con quest'uomo di che cosa beh inizierai dal più e del meno ma poi piano piano dovrai orientarti verso sei punti fondamentali che sono i rapporti con la famiglia d'origine cioè con padre e madre perché lì si annidano delle emozioni che tu potrai rigenerare potrai amplificare i rapporti diciamo con la famiglia acquisita se ha una moglie un'ex moglie quello che ha insomma i rapporti sentimentali affettivi i rapporti passionali sessuali l'immagine esterna del sé cioè la realizzazione della vita nel lavoro nel denaro e l'immagine interna del sé cioè la realizzazione con se stesso no? quindi potrebbe non avere autostima nutrirsi di disistima tante sono le cose e quindi in questo caso iniziando a parlare diciamo e facendogli toccare ecco questa è un'altra grande abilità questa è una grande abilità il libro che approfondisce il linguaggio non verbale ti suggerisco il mio libro a me il cuore please a me il cuore please emozioni e seduzione quindi chi volesse approfondire anche il linguaggio simbolico a me il cuore please emozioni e seduzione ovviamente mio Massimo Terramasco lo trovi dappertutto allora quindi questo è un punto molto importante oppure fai l'abbonamento al canale Massimo Terramasco mi segui sul canale e puoi ottenere dei risultati allora quindi questo è un punto molto importante una volta che tu vieni percepita come attraente una volta che tu vieni percepita come seducente hai acquisito quel po' di potenziale che ti è sufficiente per farlo parlare per farlo aprire per fargli per fargli venire fuori tutte le emozioni anche qua ci sono delle strategie che spiego sempre ad esempio l'utilizzo della comunicazione ipnotica di Milton Erickson l'utilizzo della comunicazione ipnotica di Milton Erickson è un altro strumento particolarmente efficace è un altro strumento particolarmente efficace che ti permette di non essere invasivo perché non è che tu ti puoi mettere lì a fare il terzo grado poi ci sono alcune donne che fanno il terzo grado che vengono rifiutate fanno il terzo grado e vengono totalmente rifiutate sono donne che dicono eh ma sei fidanzato eh ma qui eh ma là eh ma ho visto questo eh ma ho visto quello eh ma questo qua eh ma questo là eh questo è veramente un punto questo è veramente un punto negativo questo è veramente un punto totalmente negativo no? se tu diventi diciamo una specifica eh ho visto che parlavi con quella fai la gelosa fai la cagacazzo fai la rompicoglioni verrai sputata fuori perché nessuno vuole una donna rompicazzo l'ho già detto prima eh donna gelosa donna noiosa è veramente il canto del cigno è veramente la cosa peggiore che tu puoi fare eh ma eh ma qua eh ma là eh ma mi hai tradita esatto mi hai tradita con una pelata eh cioè carino ho messo un un post su instagram no dove c'era una che diceva al fidanzato o al marito non so chi fosse non ho trovato neanche un cappello sulla tua camicia e lui dice e beh allora e lei dice mi hai tradito con una pelata eh 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 mi hai tradito con una pelata eh quindi ci sono donne che sono gelose a prescindere sono rompicazzo sono rompicoglioni sono veramente il canto del cigno no della seduzione sono veramente il canto del cigno della seduzione sono veramente il bacio della morte della seduzione ecco devi evitare queste cose se tu riesci a evitare queste cose otterrai dei grandi dei grandi risultati otterrai dei grandi risultati riuscirai a far innamorare la persona nel modo giusto riuscirai a far innamorare la persona nel modo corretto questo è quello che devi imparare a fare Gli uomini poi sono sempre cacciatori, quindi da un certo punto di vista devi lasciare l'iniziativa, però devi mettere delle esche, devi imparare a mettere delle esche, perché se non metti delle esche ovviamente magari questi non si innamorano sempre, quindi mettere delle esche è fondamentale. Cosa vuol dire mettere delle esche? Vuol dire che magari devi dargli qualche là, questo per accelerare anche i tempi, per farti vedere come donna sicura, come donna intraprendente, deve provarci lui ma tu qualche segnale devi mandarlo, qualche segnale devi mandarlo. Ecco, in questo modo riuscirai a gestire al meglio, diciamo, riuscirai a gestire al meglio e riuscirai a far sì che lui piano piano ti renda la sua priorità assoluta. Se tu metti in atto queste strategie, gli farai sentire la tua mancanza perché comunque sei una donna indipendente, una donna che segue altri uomini, una donna che è corteggiata da altri uomini, una donna che non è limitata, una donna che ha tutte le caratteristiche, e tutto questo farà sì che tu possa essere percepita veramente come una donna di valore, come una donna di qualità e piano piano, gradualmente, quando lui tirerà fuori le sue emozioni, perché facendolo parlare lui tirerà fuori le sue emozioni, tu diventerai veramente, come possiamo dire, tu diventerai veramente una donna prioritaria, una donna prioritaria, lui, tu sarai la sua priorità assoluta. Bene, metti un like, iscriviti al canale e ti ricordo di attivare la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ci vediamo al prossimo video sul canale, ci vediamo al prossimo video sul canale.